Non chiudono gli hub vaccinali, chi l'ha detta? Sarà una ridefinizione degli hub funzionale a quello che progressivamente sono le minore persone che ci sono. Gli hub rimarranno sempre perché finché vi è questa situazione di contrasto al coronavirus noi dobbiamo indirizzare verso gli hub. Certo non avremo più le vaccinazioni di massa e quindi ci saranno magari un numero o più ridotto o minore, cercheremo di assorbire gli hub negli spazi pubblici, appunto negli spazi complementari ai nostri ospedali, ai nostri distretti, ma sarà un sistema progressivo che andrà di pari passo alla frequenza degli hub. Ma quindi possiamo dire che c'è un dialogo aperto fra le regioni e il governo per avere, come diceva prima appunto, un rimborso, un sostegno ai sistemi sanitari regionali? Questo c'è e è in atto.